Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video, gli scacchi sono uno sport e non smettono mai di stupirci. Al campionato del mondo Blitz, due tra i giocatori più forti al mondo hanno truccato la partita. In pratica quando hanno giocato contro si sono messi a fare delle mosse strane sulla scacchiera, però qui si apre un dibattito enorme ragazzi, veramente enorme perché ora andrò a mostrarvi un po' di cose. E questa partita in pratica è stata decisiva poi per la vittoria del mondiale, pazzesco. Prima di iniziare ricordo a tutti di mettere mi piace e di iscrivervi al canale grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo e iniziamo. Ok partiamo da qui, nella partita tra Dubov e Nepo, due dei favoriti per la vittoria del torneo, vediamo un pochino cos'è successo. Ok partiamo da qui. Cosa stavano facendo sulla scacchiera I disegnini ragazzi Cosa stava succedendo No non ci posso credere Allora aspetta un attimo Cerchiamo di capire meglio Dubbo va per con cavallo F3 Se con cavallo F6 Iniziano a muovere i cavalli a caso per la scacchiera Ma cos'è sta roba? E poi tornano indietro Quindi cercano di fare spettacolo Ma come mai i due giocatori sono così tranquilli Nel fare tutto questo? Come mai? Perché probabilmente il regolamento lo prevede Prevede una cosa del genere Ecco questo non va bene Però vi dico che i due sono stati entrambi penalizzati E hanno perso entrambi il mezzo punto guadagnato Perché la patta ti offre mezzo punto Ma dovete sapere che nel discacchi ci sono tantissimi pareggi Che vengono appunto accordati dai giocatori Senza neanche giocare Ok? Cioè è una cosa normalissima Però Nepo e Dubov sono stati puniti Cosa ne pensate voi? Certo questo non è un bello spettacolo da vedere Però allora ad esempio Siamo sempre al campionato del mondo di scacchi blitz Partita tra Dubov e Artemiev D4 D5 Cavallo F3 Fine della partita Una delle partite più corte della storia degli scacchi Allora questa Com'è che qui gli hanno dato il mezzo punto Qui gli hanno dato il mezzo punto E in quell'altra Che è durata addirittura più mosse Non gli hanno stato dato il mezzo punto E questo poi ha inciso nella classifica finale Perché Carlsen è diventato campione del mondo Solo con mezzo punto di vantaggio in più rispetto a Dubov Quindi Dubov si è giocato il titolo mondiale in questo modo Pazzesco Ma allora com'è che questa va bene E quell'altra non va bene Com'è possibile sta cosa? La federazione scacchistica mondiale Allora deve riscrivere il regolamento Deve fare qualcosa secondo me Anche perché non è un caso isolato Cioè in tutti i tornei a giro per il mondo Ci sono queste cose Succedono sempre Soprattutto all'ultimo turno I grandi maestri si mettono E fanno patta d'accordo Per pareggiare Per prendere mezzo punto Vanno a premio Fanno i loro calcoli Addirittura poi magari si dividono pure il premio Ok Se una cosa del genere succedesse In una partita di calcio Che ne so Inter Milan Si accordassero per il risultato finale Di 1 a 1 Cosa succederebbe? Un disastro Un casino no? Cioè non è possibile Che una cosa del genere possa succedere nel calcio Ovviamente ci sono anche lì Delle cose dietro le quinte Che magari noi non conosciamo Però proprio così Proprio mentre giocano sul campo Si accordano Vai facciamola finire 1 a 1 Pazzesco Gli scacchi sono uno sport Sono uno sport E meritano rispetto Però Il regolamento prevede queste cose Allora non va bene Cambiate il regolamento Secondo me Dubov e Nepo Hanno preso in giro il regolamento Perché ridevano Non erano preoccupati Perché se avessero saputo Di commettere un illecito Non avrebbero fatto Quella partita Ma ce ne sono tante Di quelle partite Cioè non sono casi isolati Vi ripeto Allora guardate qua Ad esempio Mamediarov Maxim Vashelagrav Dopo che era successo Quell'episodio Perché voi pensate Vabbè è successo questo episodio Gli hanno tolto mezzo punto Nessuno continuerà più a fare patta E no Attenzione No Guardate è D4 Cavallo F6 C4 G6 Pedone G3 Sembra una partita normale C6 Alfiere G2 Pedone D5 Qui stanno giocando anche l'apertura addirittura No Pedone per D5 Pedone per Arriva cavallo F3 Mamediarov Sta giocando un'apertura normalissima Segue alfiere G7 Vashelagrav vuole arroccare Arrocco Arrocco Arriva cavallo in E5 Cavallo C6 Cavallo C3 E qui i due Fanno patta Quindi la partita finisce in parità Perché questa partita è durata 9 mosse E non solo 2 o 3 mosse Perché magari vedendo Cos'è successo tra Dubov e Nepo I due si sono un pochino impauriti E hanno pensato Vabbè facciamola durare qualche mossa in più Voglio dire due grandi maestri sono abilissimi Quindi possono anche fare patta dopo 15 mosse O possono anche addirittura fare patta Senza che nessuno se ne accorga Facendo finta di giocare Diciamo Però questo Succede veramente Di frequente Nel mondo degli scacchi Quindi ok Questo è un problema L'abbiamo individuato A voi Sembra giusto Che abbiano tolto Il mezzo punto A Dubov Non lo so Fatemelo sapere nei commenti Cioè sia a Dubov Che a Nepo Perché? E perché Questa va bene ad esempio Questa partita Come mai questa va bene? Lo so anch'io non mi sono divertito A vedere quella partita Tutta di cavalli Però ci sono delle cose Nel mondo degli scacchi Che Cioè fanno un po' ridere Ad esempio Ali Reza In questo momento Doveva qualificarsi Per il torneo dei candidati No? Ed è riuscito a qualificarsi Andando a partecipare A tornei Dove partecipano Persone Comunque molto meno brave di lui Quindi tornei open Ma non solo Si è portato dietro Quelli che lavorano nel suo team E quindi addirittura Ha giocato con Kamsky Ha giocato anche con altra gente Che fanno parte del suo team E ovviamente li ha battuti tutti E allora Ali Reza si qualifica Per il torneo dei candidati Cioè è pazzesco Capito cosa voglio dire? Che ancora viene utilizzata La furbizia Vengono utilizzate Tecniche Al limite del regolamento O comunque Il regolamento stesso Non va bene C'è proprio qualcosa Che non va nel regolamento stesso Degli scacchi E questo Cos'è successo Dopo L'accaduto Tra Daniel Dubov E Nepo Eh È successo tantissimo Guardiamo la classifica finale Del campionato del mondo Blitz Karzen Vince con 16 punti Ok Karzen è un fenomeno Un mostro Ci ho fatto anche il video ieri Ci abbiamo fatto tanti video Mi fanno ridere Quelli che ancora continuano E no E no E no E no Ragazzi Karzen lo puoi criticare Perché magari è andato contro Neiman Senza avere prove Quello sì Ma il giocatore Per come gioca a scacchi Non può essere criticato È impossibile Perché vince sempre Cioè Campione del mondo Blitz Campione del mondo Rapid Quando giocava a tempo lungo Campione del mondo A tempo lungo Cosa gli vuoi dire Karzen vince con 16 punti Ma attenzione Guardate Dubov 15 punti e mezzo Con quel mezzo punto Dubov sarebbe stato A 16 punti E magari Non lo so Sarebbero andati agli spareggi Qualcosa del genere Quindi capite Karzen è stato favorito In questo caso Nepo Con quanto ha chiuso 14 Magari avrebbe potuto fare 14 e mezzo Però Togliendo il mezzo punto Al turno Non so qual era Turno 11 Mi sembra In pratica Sei andato In un certo senso Secondo me A falsificare Tutto il torneo Quindi ora Bisogna capire Se veramente Il regolamento Prevede Che tu non puoi fare Mosse di cavallo A caso Sulla scacchiera Per fare pareggio Ma che poi Addirittura Tu mi dai il mezzo punto Quando io Ti muovo Cavallo F3 Cavallo F6 D4 Chiedo patta Allora in quel caso Va bene Mentre facciamo 20 mosse di cavallo Sulla scacchiera Non va bene Cioè cosa No veramente Non capisco Non capisco molto bene Comunque sì Possiamo parlare Di vera e propria Partita truccata Ma attenzione Perché di partite truccate Nel gioco degli scacchi Ce ne sono tantissime E non solo In tornei di alto livello Ma anche in tornei Di basso livello Quindi In ogni torneo Ma addirittura Anche Agli ultimi turni I grandi maestri Si mettono d'accordo Per pareggiare la partita Anche dopo una sola mossa Nessuno controlla Per poi dividersi I premi in denaro Ok Attualmente Il mondo degli scacchi Funziona così C'è un modo Per fermare Tutto questo Vedremo un po' In futuro Cosa succederà Fatemi sapere voi La vostra Cosa ne pensate Grazie a tutti Per la visione di questo video Vi ricordo di mettere Mi piace E di iscrivervi al canale Ciao E alla prossima Ciao